Una piazza piena di gente ha fatto da scenario alla manifestazione regionale Vogliamo la sanità pubblica e universale, voluta da CGL e Will dell'Umbria, alla quale hanno aderito i sindacati del settore sanitario. Per i sindacati è in atto un vero e proprio smantellamento del sistema sanitario, da qui il grido lanciato da medici, infermieri, lavoratori, studenti e pensionati, saliti anch'essi sul palco di piazza 4 novembre a Perugia per difendere e rilanciare la sanità pubblica in Umbria, per chiedere assunzioni stabili subito, per abbattere le liste d'attesa, per rafforzare la salute sul territorio e dire basta alle barelle nei corridoi. Il comizio è stato aperto da Vincenzo Sgalle e Maurizio Molinari, segretari generali di CGL e Will dell'Umbria, entrambi hanno rivendicato la mancata partecipazione nell'elaborazione del piano sanitario regionale adottato dallo scorso 5 agosto senza confronti a cui volendo si dichiarano ancora aperti. Alla manifestazione hanno aderito anche alcuni sindaci della regione e le segreterie nazionali di CGL e Will, con gli interventi di Domenico Proietti, segretario nazionale Will e Daniela Barbaresi, segretaria nazionale CGL. Vogliamo vedere concretizzato il diritto alla salute, hanno detto in Umbria, così come in tutte le regioni italiane. Siamo qua per riaffermare le ragioni delle servizie sanitario pubblico nazionale dicendo che 37 miliardi di euro di tagli sono una cosa inaudita. Già dalla prossima legge di bilancio vanno assegnate risorse aggiuntive anche perché siamo convinti che una buona politica economica coincide con una buona politica sanitaria.